Con noi il presidente De Rosa dell'Accadia, presidente è una cara a Maschia, una cara che ha visto due squadre con opposti obiettivi. Il finale la voleva vincere, alla fine c'è riuscito, l'Accadia si è difesa, però una partita dura, una partita che fa capire che il campionato è ancora molto valido. Sicuramente, così devono essere le partite. Io tutta questa polemica che stanno facendo non riesco a capirla. Noi ci siamo giocati la nostra partita con le forze che avevamo. Il Cervinare è sicuramente una squadra più forte della nostra. Hanno vinto, bravi loro. Noi abbiamo fatto una partita, ma non riesco a capire tutte queste cose, vi mettete d'accordo. Noi non ci mettiamo d'accordo con nessuno. Noi giochiamo tutte le partite secondo quello che è la nostra forza. Noi non ci metteremo d'accordo con nessuno, non l'abbiamo mai fatto, né lo faremo. Cercheremo di vincere le altre partite per cercare di arrivare quinti. Poi è chiaro che per come si è messo il campionato molto probabilmente c'è talmente un divario tra la seconda e la quinta che sarà difficile. Però finché la matematica non ci condannerà, noi ci giocheremo fino all'ultima partita come abbiamo sempre fatto, tranquillamente. Mister Fasano, una partita che vince il Cervinare contro l'Accadia, una partita maschia, anche se alla fine si è visto in campo il divario tra le due squadre. Ma è ovvio che diciamo alla fine noi abbiamo retto benissimo, tatticamente siamo stati perfetti. Però purtroppo dei cambi forzati che ho dovuto fare a un certo punto abbiamo perso un po' di esperienza. Perché comunque ho dovuto mettere dentro dei ragazzi e alla fine l'abbiamo pagata. Anche se abbiamo fatto una grande partita e va onore al Cervinare di aver vinto una gara completamente diversa rispetto a quella che hanno fatto contro il Paolisi. Mister, quindi un Accadia che è sceso in campo con quell'assetto tattico. Perché dalle gradinate si vedeva che era una difesa piuttosto ermetica, un centrocampo molto sulla forza e lì capo di lopo in attacco. Quindi diciamo che questo è lo schieramento iniziale. Molti credevano che alla fine gli volevate solo difendere. No, 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 no. Noi credo che si è visto, abbiamo avuto anche noi delle occasioni. Non è che noi abbiamo solamente messo, ci siamo messi dietro e abbiamo semmai buttato Polla avanti. Invece noi ogni pallone che davamo avanti c'era un criterio, c'era una partita preparata. Purtroppo l'abbiamo dovuta diciamo il ramarico e che ad un certo punto si è vista la nostra... Facciamo allenamenti diciamo io ero abituato a 4-5 allenamenti con il guardia e qua noi facciamo 3 solamente. E un poco diciamo si è visto ad un certo punto. Ma non un calo di reattività, un calo fisico non c'è stato, anzi abbiamo retto alla grande. Però c'è stato ovviamente un calo diciamo nel momento in cui loro si erano alzati molto molto bene. Noi potevamo semmai salire con qualche uomo in più e a quel punto fare ancora più male. Però sono contento diciamo per me. Io a un certo punto ho detto a Cagnale in modo amichevole, ho detto Alessandro se oggi vinci credo che potrai andare lontano. Perché io mi conosco, conosco la partita, conosco la squadra che preparo e con un pizzico di fortuna riusciamo a fare anche spesso molte volte bella figura. Grazie. Grazie.